hey guys benvenuti sul canale degli amandola brothers io sono jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo su destiny per un'altra recensione delle armi di destiny appunto e questa volta di nuovo dopo l'ultimo episodio di nuovo su un'arma della volta di vetro e bensì visione di confluenza anche questa molto famosa è una delle armi più usate in destiny assolutamente 300 danno massimo quest'arma si può droppare solo nella volta di vetro volta di vetro visione di confluenza fucile da ricognizione andiamo a vedere le statistiche comunque grazie ragazzi per le visualizzazioni per i mi piace ai video di destiny cercherò di farne sempre più frequenti scrivetemelo nei commenti sempre se avete domande unitevi a giungetemi agli amici amendo la brothers se volete giocare insieme eccetera eccetera bene quindi allora visione di confluenza fucile da ricognizione ciò che ha visto ti segnerà per sempre wow bene quindi fucile da ricognizione danni elementali da fuoco cioè braci danni elementali braci infatti vedete vediamo ecco qui danno solare bravo braci ho detto come ho detto braci quello sono le braci nel calo nel calo alla notte sono uno stupido danni solari perché dico fuoco però è solare dico ghiaccio ma è ad arco vuoto è quello lì non c'è altro modo per dirlo vabbè cadenza il numero di colpi al minuto che può sparare quest'arma diciamo è molto buono diciamo spara molto velocemente logicamente che pretendevate un fucile da ricognizione non poteva sparare con un automatico ma spara molto velocemente ed è buono l'impatto è molto alto cioè metà quindi la gittata è molto alta la stabilità è stabilissima come arma ricarica molto veloce caricatore 27 perché abbiamo aggiunto l'abilità però si può aumentare anche la stabilità adesso lo vediamo danno solare allora c'è questo qui mirino laser os che può aumentare la stabilità ma la stabilità è già molto buona e un pochettino pochettino la ricarica questo aumenta invece solo la ricarica e ho messo questo che aumenta vediamo appunto la gittata e la stabilità io consiglio questo qui il terzo allora prima abilità prima abilità autofuoco ed è assolutamente buonissima per un fucile da ricognizione quest'arma possiede la modalità di fuoco automatico quindi non dovete premere ogni volta il grilletto ma basta tenere premuto e sparerà in automatico quindi assolutamente molto molto buona quest'arma adesso la vedremo anche sul sul campo su una missione al 30 giornaliera come nella scorso video vedrete che è la stessa perché l'ho registrato lo stesso giorno comunque danno potenziato poi va bene normalmente poi ci sono tre abilità questa fionda punto singolo cambia arma più rapidamente muoviti più velocemente quando miglia assolutamente non la pensate questa qui perché non vi serve potete sfruttare queste due vedete come siete abito cioè se per voi non è stabile ma l'arma è già stabile però se volete proprio la stabilità al massimo che proprio dovete sparare stando fermi potete sparare sempre la testa equilibrio perfetto potete equipaggiare questa ma vi vi riduce di molto il caricatore cosa molto molto male perché appunto vi servono più colpi perché spara anche un automatico quindi vi scende 19 colpi io rimango sempre questa di 27 perché per me già è molto stabile l'arma e con 27 colpi possiamo fare parecchio danno l'altra abilità momento zen e causare danni con quest'arma ne aumenta la stabilità appunto perché anche questa abilità la stabilità è molto 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 alta non non ci sono problemi per quello poi vabbè danni potenziate siccome una arma della volta di vetro più danno agli oracoli cosa molto buona quindi per fare ateon al 30 per gli oracoli che vanno giù davvero davvero velocemente cosa dire di quest'arma fortissima nel pv è fortissima nel pvp cioè nel pvp un po meno cioè forte però non è una delle migliori armi nel crogiolo però è forte è buona nel nel crogiolo specialmente se avete una buona mira se riuscite a fare molti colpi alla testa siete bravi con la mira con i colpi alla testa è molto forte potrete a fare uccisioni da specialmente da abbastanza da molto distanti da vicini vicini no non è buona perché ci sono quelli con i fucili a pompa che vi sciottano logicamente quegli stupidi che odio con tutto il mio cuore però c'è anche chi con ultima parola da molto vicino quindi ti fa fuori in un secondo ma dalla media lunga distanza i fucili da ricognizione sono ottimi e visione di consulenza è davvero buonissima per il pv è una delle armi più forti a mio parere quando sarà dopo il casato dei lupi sarà 365 mamma mia solo questo dico sarà fortissima usata da tantissimi perché un'arma che è forte ma anche facile da usare quindi molto molto usata infatti vedi la classifica tipo delle armi più usate in destine mi sembra che era proprio al primo nei primi tre posti c'era visione di confluenza la consiglio assolutamente quando quando la droppate maxatela perché anche se ha 300 di danno è fortissima voto 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 che voto gli do gli do sorte fatale ho dato 9,4 come fucile da ricognizione ragazzi secondo me è il più forte il più forte forse c'è zanna di riut che anche è forte ma per il fuoco automatico forse è un po' meglio quando saranno allo stesso livello di danno sicuramente visione di confluenza sarà più forte di zanna di riut a mio parere ragazzi alla fine cioè faccio le recensioni appunto sono a mio parere non è che è sicuro così molte volte ci sono anche cose oggettive cioè se un'arma è più scarso è un'arma è più forte però dipende pure da come si è abituati a giocare dalle situazioni dai boss dai mob che si incontrano quindi cambia logicamente ogni ogni cosa nel gioco come l'altra volta nella video scorso della recensione di sorte fatale se non l'avete visto andate a vederlo ho fatto il fail il fatto del carico e del carico instabile perché appunto avevo provato con un altro tipo di mob e allora era diversa la cosa però vabbè o forse avevo provato solo con i maggiori e non con quelli rossi vabbè comunque voto 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 che gli do che gli do voto 9,5 va perché è una delle più usate perché è fortissima perché è buona perché riuscite a fare molti headshot vi può aiutare in molte taglie fortissima fortissima assolutamente ho dato 1,1 più di sorta fatale perché i fucili da ricognizione forse per i mob più forti c'erano quelli di quelli con più vita è meglio è migliore potete togliergli più vita in confronto anche 27 colpi anche se quello quando ne portate la versione a 13 però a meno impatto però comunque non facciamo un confronto con sorte fatale 9,5 e andiamo a vederla sul campo come funziona con con catena del dolore aspetta vi faccio vedere qual è quella che mi fa ricaricare ecco qui catena del dolore le uccisioni precisi aumentano la velocità di ricarica dell'arma con questa riuscite a ricaricare molto molto velocemente andiamo a provarla vi faccio vedere prima la cadenza vedete tenendo premuto guardate la stabilità cioè sto tenendo fermo e non sto premendo il l'analogico e vedete sono già scomparsi coproiettili però si spara sempre sempre nello stesso punto ragazzi guardate sale giusto di un pochettino vedete sale giusto giusto di un pochettino proprio ma quindi solo a lunga distanza ne vedrete la stabilità diciamo che vi darà qualche problemino ma nemmeno o questi stanno fermi qua tette adesso sono io dietro di voi allora 200 e 600 in testa avete visto il shot quasi c'è un paio di colpi tenendo premuto guardate vi rende proprio la vita facile potete tenere continuare a tenere premuto e fate molti molti headshot questo è il livello 30 ai ragazzi gli avversari vedete che potenza assolutamente vi rende la vita facile mi piace tanto usare visione di confluenza per dropparla ragazzi non so sono stato l'unico in destini secondo me che ho dovuto fare ateon al 30 50 volte per droppare visione di confluenza non me la voleva dare avevo tutte le armi della volta tranne visione di confluenza due mitoclasta 50 epilogo di ateon ma non mi dava visione di confluenza poi quando finalmente l'ho presa ho potuto capire perché tutti dicevano che era tanto forte e tanto buona anche perché a danni vedere avete visto quello con lo scudo in quanto l'ho buttato giù perché a dicevano cioè a danni solari che un danno che serve molto perché molti mob hanno hanno appunto il lo scudo solare a questo qui 400 di log in testa ho fatto pure la taglia e visto quindi bomb mentre volava grande fortissima fortissima come vedete vedete con catena del dolore carica molto velocemente adesso ne ho due cioè fate proprio niente la stabilità ragazzi vedete da questa distanza riesco a fare headshot vedete stabilità e la gittata cioè potete mettervi proprio da ho fatto un'altra rama ma quante taglia faccio proprio da miliardi di chilometri e fate le uccisioni alla testa questo nascosto qui il mirino anche mi piace questo qua con la specie di triangolino vabbè ragazzi questa è durata un po di meno come recensione in confronto a quella di sorte fatale che ci tenevo tanto e ho parlato parecchio questa era la recensione ragazzi fatemi sapere se voi avete quest'arma come vi trovate nei commenti me lo fate sapere se avete domande volete sapere qualche altra cosa in più spero di non aver dimenticato nulla aggiungetemi agli amici se volete giocare con me logicamente ragazzi ho 500 amici fra gli amici e tutti ogni volta che inserisco destiny mi arrivano un messaggio a bizzeppe facciamo il cala facciamo la volta facciamo crota io ho una persona sono non posso dividermi fra diecimila persone logicamente do prima la priorità a quelli del mio clan e poi agli altri che se ho tempo libero aiuto però purtroppo non siate troppo esigenti voi mandate un messaggio io se posso vengo ad aiutarvi ma logicamente ho tante cose oli o il lavoro il canale quando gioco tutti che mi mandano messaggi non posso stare una giornata intera però capiterà sicuramente di giocare insieme aggiungetemi agli amici quindi se capita giochiamo assolutamente tanto aggiungermi agli amici non vi costa nulla l'amicizia accetterò sicuramente bene se il video vi è piaciuto come sempre cliccate un bel iscrivetevi alla pagina facebook a mendola brothers trovate il link in descrizione facciamo arrivare questa recensione a 60 mi piace va 60 no 70 70 mi piace proprio voglio abbondare 70 mi piace così tutti dropperete visione di confluenza come ho detto consorte fatale va bene ragazzi iscrivetevi al canale se non siete iscritti per altri video di destini e tante altre cose grazie ancora e se per caso il gameplay non vi è piaciuto pensate che visione di confluenza sia scarsa che destini faccia schifo da parte di da parte di chi lo facciamo da parte di tutti i mostri della volta di vetro grazie ragazzi da jonathan amendo la via amendo la brothers al prossimo video ciao adio